Frequentava l'Iceo Nolfi a Polloni, la quindicenne Benedetta Vitali, una delle sei vittime della tragedia, la lanterna azzurra di Corinaldo. A distanza di due anni, l'istituto dedicherà una mattinata al tema del divertimento in sicurezza. Venerdì mattina i 1300 alunni si collegheranno da casa per vedere un docufilm diretto da regista Tommaso Luzzi, già disponibile su YouTube. Vogliamo ricominciare a vivere insieme, a vivere la musica e il divertimento e non permettere che quanto accaduto rimanga una pagina nera nelle storie delle nostre vite, ma che sia un faro che ci indichi dove andare e quando è il momento di ripartire. Sarà un'occasione per riflettere sulla responsabilità di giovani gestori di locali, ma anche per illustrare il codice etico che porta la firma del garante dei diritti Andrea Nobili, del direttore di Confcommercio e della presidente del COGEU, il comitato dei genitori costituitosi dopo la tragica notte dell'8 dicembre di due anni fa. Tra le iniziative promosse dall'associazione rientra questo manifesto. Proietteremo il manifesto, il filmato documentario, il streaming a tutti gli studenti nella prima ora e poi in ogni classe, a secondo turni, dalle 9 a mezzogiorno, secondo le classi, alcuni nostri studenti che hanno collaborato a stendere questo manifesto si collegheranno in videocollegamento con i loro compagni che si trovano a casa per le note ragioni e presenteranno loro il senso di questa iniziativa. Per noi era importante quest'anno, al di là della ricorrenza che ci lega alla figura di Benedetta, già studentessa di questo istituto, cogliere l'occasione per porre il tema generale al centro dell'attenzione. I quattro studenti che hanno collaborato alla stesura del manifesto, Giulia, Ania, Rebecca ed Enrico, si sono collegati anche per la presentazione dell'iniziativa alla stampa. Il progetto è partito dal codice etico che contiene le regole per i locali a tutela dei minori. Quattro ragazzi sono andati a Milano e con l'aiuto di Scuola Zoo One Day hanno tradotto questo manifesto in un linguaggio più semplice che punta alla sicurezza nei luoghi di divertimento. Consiste in un patto di corresponsabilità tra gli esercenti dei locali e gli stessi ragazzi che vanno a divertirsi. Possiamo dire che è possibile divertirsi in sicurezza e divertirsi realmente. In conferenza erano presenti anche la vicepreside Lucia Tarsi e alcuni familiari di Benedetta. È importante che si tenga alta la memoria proprio per evitare che si abbassi la guardia e possano riaccadere delle cose simili. Sono passati due anni però ancora state attendendo giustizia? Due anni sono tanti. In due anni alla fine noi non abbiamo mai smesso di soffrire e con noi non è che dico una, due o tre persone ma si parlano di famiglie intere. Stiamo aspettando un po' impazienti che arrivi alla fine questo momento dove potremmo dire di avere in parte chiuso un capitolo perché poi non si chiuderà mai però già ci potrebbe dare un po' di sollievo. Grazie. Grazie. Grazie.